Il rimpianto della Fidelis Andrea, la leadership solitaria del Monopoli, il Biceglie che resta pur senza scendere in campo l'unica squadra a punteggio pieno del girone centro meridionale e ancora il primo vero sorriso della Virtus Francavilla, il crollo dell'Ecce a Catania e la sintesi di quanto accaduto alle 5 pugliesi nella terza giornata del campionato di Serie C. A carezza a lungo il sogno di brindare al primo successo la Fidelis che però si fa raggiungere nel finale dalla casertana al degli Ulivi in occasione del secondo turno casalingo consecutivo di questo avvio di stagione. Barisic positivo ed estremamente incoraggiante, il suo impatto con la realtà biancazzurra fa centro dopo una decina di minuti, l'Andria è messa bene in campo e crea molto nella frazione d'apertura, non riesce tuttavia a trovare il guizzo utile per ipotecare la vittoria. I campani di conseguenza restano in partita, crescono in termini di personalità nel corso della ripresa, guadagnano metri preziosi e nel finale a 5 minuti dello scadere per la precisione trovano con la propria punta di diamante offensiva il gol del pareggio con Alphageme. Rimpianto Fidelis dunque, gioia invece Monopoli, non per il trist di successi per questo esaltante inizio di stagione ma per il primato solitario in classifica maturato al termine dello 0-0 al veneziani contro l'Akragas. Gli uomini di Max Tangorra giocano complessivamente una buona partita, manca questa volta però la zampata decisiva. Niente calcio giocato, dicevamo per il Biceglie, che ha osservato il turno di riposo previsto dal calendario della terza giornata. In virtù del pareggio del Monopoli e della sconfitta del Rende in casa con il Siracusa, però l'undici di Enunzio Zavettieri diventa l'unica squadra a punteggio pieno del girone C. Sei punti in due partite giocate. La nota, meno lieta sino a questo momento della Puglia, arriva senza alcun dubbio dal Lecce. Sconfitto pesantemente al Massimino dal Catania, Biagianti apre i conti per i siciliani, Marchese e Russotto rendono nella ripresa più rotondo il passivo dei Salentini. Sulla cui panchina non c'è più Roberto Rizzo, irrevocabili le sue dimissioni presentate alla società. Formula 1x3 per la Virtus Francavilla, un gol per tre punti. Lo realizza Saraniti dagli 11 metri ed è sufficiente ai brindisini per battere in casa il Fondi. Non punge infine il Matera, che non va oltre lo 0-0 tra le muramiche contro un Cosenza che cancella lo 0 in classifica al terzo tentativo.